In questo video vi farò vedere come inserire una nuova pagina in un file di OpenOffice quindi nel programma di scrittura di OpenOffice Ora qui l'ho fatto con l'invio, infatti si evidenzia la formattazione, mi evidenzia tutti gli invii Vi dico subito che questa è una maniera scorrettissima di andare a pagina nuova perché se poi andassi a cambiare delle cose all'interno della pagina non mi rispetterebbe più le proporzioni quindi avrei sicuramente dei problemi Quindi vi faccio vedere come inserire una nuova pagina Ad esempio io ho scritto questo, poi voglio andare a pagina nuova senza premere tante volte in bio, vi faccio vedere come va fatto Allora se io voglio inserire una pagina dopo, quindi prima pagina, voglio una pagina vuota quindi una pagina dopo, devo andare in fondo allo scritto col cursore dopodiché vado su inserisci, interruzione manuale, interruzione di pagina, deve essere spuntato adesso ricordatevi di essere all'interno della pagina col cursore e non nell'intestazione quindi andate in fondo e fate ok come vedete lui aggiunge una nuova pagina dopo e qui ora potete andare a scrivere mentre se volete una pagina prima quindi io parlo della prima pagina, potrei farlo per qualsiasi delle pagine se volessi inserire una pagina prima mi posiziono con il cursore prima del testo quindi vado con inserisci, interruzione manuale, ancora una volta, interruzione di pagina ok lui come vedete mi inserisce una nuova pagina prima quindi questa è la maniera corretta di farlo se volete finire e andare a pagina nuova oppure mettere una pagina vuota tra due pagine questo è il modo corretto di farlo e non attraverso l'invi quindi per questo video è tutto e alla prossima